Volley tra pochi minuti alle 19 ad Antaglia. L'Italia femminile affronterà la Polonia per la Nations League che vale anche e soprattutto per la qualificazione olimpica. La nazionale azzurra maschile invece ha concluso il collegiale a Cavalese e nel fine settimana raggiungerà Rio de Janeiro dove a sua volta disputerà la prima fase di Nations League alla ricerca del pass per i giochi di Parigi. Maurizio Colantoni. L'eroe dei terremondi campioni in campo con tre titoli mondiali. Il sogno di poter partecipare con la sua bella Italia ai prossimi giochi olimpici a Parigi da CT. Una qualificazione che passerà per la WNL il 17 e la partenza per il Brasile per un'Italia che a Cavalese ha superato Serbia e Turchia. Ferdinando De Giorgi è pronto a volare Rio. Fefe, c'è un po' di emozione nel pensare che si va a fare una WNL che può volere una qualificazione olimpica? Allora l'emozione è sempre avere la maglia azzurra la verità. Saranno ecco 12 partite nelle quali dobbiamo offrire veramente il nostro meglio per raggiungere questo obiettivo che poi ci può aprire insomma una competizione che è un grande desiderio. Un'Italia che viene da due amichevoli, due vittorie, si è allenata poco però dimostra avere tanta voglia di giocare con questa nazionale. È stato impegnativo ma è stato bellissimo vedere insomma secondo me il potenziale massimo che c'è a livello italiano e vivere questo sentimento comune di rappresentare la propria nazionale, questo entusiasmo che hanno messo. Anche la loro sicuramente voglia di conquistarsi anche dello spazio. Fede Giordi è l'eroe dei terremondi, ha giocato tante olimpiedi da giocatore, essere lì per te che significato potrebbe avere? Beh le olimpiedi sono un desiderio, sono un sogno, dico sempre un sogno occhi aperti perché per arrivarci ti devi dare da fare.